Allora, rieccoci in diretta, adesso ci colleghiamo con un ex ministro che è Danilo Toninelli, che ringrazio per essersi collegato con noi, buonasera. Buonasera a voi, buonasera a tutti i telespettatori. Allora, io ho fatto questo titolo, abbiamo fatto questo titolo Soldi Veri, i soldi veri dell'Europa, perché si parlava, è stato detto di tutto, devo dire che anche chi sta all'opposizione, la Lega e la Meloni, non attaccano più tanto il governo per il recovery fund, perché a questo punto questi 81 miliardi sono veramente a fondo perduto, ce lo può confermare. Arriveranno questi soldi e quando? Sì, è veramente una bella notizia, diciamolo chiaramente, che tra i soldi che abbiamo messo come governo, con il decreto Curitalia, decreto rilancio, e quelli che arriveranno dall'Unione Europea e sono presi dal bilancio dell'Unione Europea. Di conseguenza, in questo caso, posso dire finalmente, mamma Europa, prende dal proprio portafoglio comune dei soldi che utilizza per aiutare i propri figli sui propri paesi. L'Italia è il paese che prende più denari europei, perché è il paese, ahi noi, che ha subito di più economicamente in conseguenza del coronavirus. E sì, sono più di 80 miliardi di soldi veri, perché non sono prestiti agevolati, sono soldi veri che entreranno nel circuito economico. Noi lotteremo ovviamente perché vengano spesi negli ambiti migliori possibili, dall'economia verde, quindi rinnovabili, quindi l'efficientamento delle case, come abbiamo visto, che abbiamo fatto con il super bonus al 110%, tutto l'economia digitale, il rinnovamento digitale, la copertura con fibra ottica, quindi veloce, in tutte le abitazioni, magari anche quali dei piccoli paesi, dei paesi di montagna. Insomma è molto positivo, ci aspettano dei mesi o forse anche degli anni molto positivi, e lo dico con somma umiltà ma con altrettanta convinzione. Con il Movimento 5 Stelle, lì nelle stanze decisionali, importanti a decidere dove destinarli e a chi destinarli, non ci sarà neanche una fregatura per i cittadini. Ecco, però scusi Toninelli, due cose pratiche. Uno, io leggevo un po' di progetti di tutti i tipi per usare questi soldi, e uno è quello di abbassare le tasse. Da quello che ho capito io non si può, cioè devono essere usati per dei progetti concreti o possono essere usati anche per abbassare le tasse? Allora io penso proprio che non si possa, ma si possono utilizzare in modi tali da riattivare l'economia, e se si riattiva l'economia e lo Stato diventa ancora più forte, e se si abbassa il debito pubblico, evidentemente lo Stato potrà abbassare trasversalmente le tasse. Ricordo una cosa, che probabilmente il 18, 17 o comunque giudici di giugno ci sarà, c'è prima un Eurosummit, e poi ci sarà un Consiglio europeo dei capi di Stato e di Governo. Noi siamo molto fiduciosi perché questo venga confermato. Avrete visto l'Olanda che è un paese, si sono definiti frugali, sono per mantenere l'austerità, ci ritengono degli spendazioni e non è vero, quando loro sono un paradiso fiscale, dove tante imprese si trasferiscono la sede fiscale per pagare meno tasse, magari hanno tutto qua, hanno tutto in Italia o in altri Stati europei. Ma sono convinto che li convinceremo, perché il fatto di essere stati in grado, e questo è stato bravissimo Conte, il Governo che lo appoggiava, di convincere la Merkel, che non era così convinta poche settimane fa, è stata la chiave di volta che ha portato ad un risultato, ora lo dico veramente con totale onestà intellettuale, che solo un mese fa era inimmaginabile. E vi dico una cosa, prima che la Commissione europea facesse questa, pochi giorni fa, questa proposta, in Parlamento europeo, si è votata una risoluzione che cos'è? I parlamentari europei eletti dal popolo europeo votano un impegno per la Commissione europea, che non è vincolante come impegno, a mettere recovery fund, cioè soldi freschi, veri, a fondo perduto per i paesi europei che sono in difficoltà, noi abbiamo votato a favore come Movimento 5 Stelle. Fratelli d'Italia, la Lega, che oggi si oppongono a recovery fund, o cercano di saltare sul carro del vincitore, si sono astenuti, cioè non hanno votato a favore. Io dubito, mi dispiace dirlo, dubito che lì abbiano cercato di fare una sorta di assalto, di agguato a recovery fund per tornare in Italia, nei confini nazionali, attaccare il Governo e dire che non aveva ottenuto niente in Europa. Invece fortunatamente per noi cittadini italiani ha ottenuto tanto. E quando arrivano questi soldi? Perché adesso l'ultimo appiglio a cui si attacca l'opposizione è sì, però chissà quando arrivano, chissà arriveranno troppo tardi, visto che a questo punto non possono più contestare la consistenza dei soldi. Qualcuno oggi ha scritto, perdoni, qualcuno oggi ha scritto addirittura secondo trimestre 2021. Se fosse così sarebbe non tardi di più, presumo di no, perché se no è veramente... Allora, uno dei successi che ha ottenuto Conte nei vari consigli europei dei mesi scorsi è stato proprio quello, anzi nell'ultimo, di inserire la parola emergenziale, urgente, nell'utilizzo dei recovery fund. È una decisione che però spetta 27 paesi europei, non solo dove destinarli, quanto si è già deciso, devono confermarlo, ma dove destinarli. E questo è fondamentale. E quando destinarli? Ovviamente ora Conte dovrà andare lì e cercarli di portare a casa un'altra importante vittoria, cioè di anticipare al massimo già in questo secondo semestre del 2020. Una cosa però è positiva. Il fatto che ci siano già, che si sappia che ci siano già, sapete che cosa comporta? Comporta che comunque non ci siano speculazioni da parte di speculatori finanziari che magari indeboliscono il popolo italiano attraverso speculazioni sui titoli di Stato o sul debito sovrano dell'Italia. Significa che noi abbiamo di fronte una situazione economica difficilissima in conseguenza del coronavirus, ma con tanti soldi e senza speculazione, a parte gli speculatori che misero in crisi poco più di dieci anni fa l'Italia e soprattutto la Grecia, perché ci sono queste grandissime risorse economiche. E una volta ogni tanto, purtroppo io sento troppe autocritiche, troppa propaganda sgangherata. Possiamo dirci che l'Italia è stata all'altezza e si è fatta valere nei tavoli europei. Quando io mi ricordo, invece che c'era qualcuno, se non faccio nome perché non mi piace fare polemiche, che veniva il riso quando andava a rappresentare l'Italia e gli italiani ai tavoli europei. Parla di Berlusconi o parla di Salvini? Parlo di Berlusconi ovviamente. Salvini certamente, se ci fosse stato Salvini, guarda, io lo dico veramente da cittadino, se ci fosse stato Salvini o Meloni e gli alleati di Salvini e Meloni. Ma sapete che gli alleati, ieri l'altro, di Salvini e Meloni in Europa, cioè alleati ai gruppi parlamentari europei, hanno dichiarato che è un colpo di stato da parte della Commissione europea l'aver deciso di mettere soldi comuni per salvare singoli stati in difficoltà. Lei parla di Orban, perché Orban ad esempio è contrario. Orban, ma non solo, ma ce ne sono un sacco, sono tutti amici o alleati con Salvini e Berlusconi. Che cosa significa Salvini o Meloni? Meloni. Se ci fosse stato Salvini come Presidente del Consiglio, come alleato in Europa, avrebbe avuto quei partiti sovranisti che fanno di tutto nei rispettivi paesi a dire, a convincere i governi, se non sono già loro al governo, non diamo neanche un soldo agli italiani, spendazioni che hanno un debito pubblico, non lavorano, sono sempre in vacanza. Queste sono parole che in Olanda si sentono e il partito alleato con Salvini e Meloni in Olanda ha detto che siamo sempre in vacanza. Chiaro, però scusi Toninelli, se non ci fosse stato il papete, adesso lei e Salvini sareste alleati e avremmo ancora il governo di prima. E avremmo Conte e il Movimento 5 Stelle. Allora, io dico, il Movimento 5 Stelle può avere tutti i difetti del mondo, ma non frega le persone, lavora per le persone in maniera trasparente e altruista e soprattutto migliora anche gli altri, perché io non ho vent'anni, ne ho un pochettino di più. Mi ricordo troppo spesso di vedere politici di fazioni opposte litigare in tv, in dibattito, poi entro in Parlamento e vedo che si abbracciano e si baciano come fossero grandi amici. E sì che erano grandi amici, perché troppo spesso hanno fatto leggi a favore di qualche d'uno, che non erano i cittadini, ma era qualche d'uno che erano i vitalizi per loro stessi, leggi ad azienda, come ha fatto da Berlusconi. Diciamole chiaramente, con noi queste cose non si fanno e avremmo probabilmente, spero di sì, avremmo probabilmente ottenuto gli stessi risultati. Ci avreste fatto d'argine. Oggi però li abbiamo ottenuti, senza Salvini. Ok, senta Toninelli, invece per quanto riguarda l'aspetto sanitario, la decisione, l'abbiamo data prima, la decisione del governo di far muovere tra le regioni, il governo ha deciso, già in serata, ci si potrà spostare tra le regioni. Lei ha paura che al sud però venga tirato su un muro in un altro modo, non so come, perché poi Boccia ha detto chiaramente che non si può impedire l'ingresso da una regione all'altra, però lei pensa che le regioni del sud in qualche modo possano mostrare la loro contrarietà, cioè crearsi un antagonismo tra nord e sud al contrario? Ma io sto vedendo una cosa, sto vedendo che stanno utilizzando alcuni governatori che magari erano in crisi di consenso, come ad esempio De Luca in Campania, questa situazione per fare un po' a parole i scerissi e nei fatti rispettano tutti i dettami, tutte le circolari, tutte le linee guida che partono dal governo. Stanno cercando di fare un po' di propaganda, fanno parte di colori politici diversi e quindi sfruttano questa situazione. non lo farà nessuno nei fatti, probabilmente occuperanno qualche pagina di giornale o qualche dibattito televisivo nel dirlo, ma poi non lo faranno perché non è possibile farlo. Ma perché se mettiamo dei protocolli di sicurezza e poi sapete che questi protocolli di sicurezza sono stati fatti di concerto con il governo con la conferenza delle regioni all'unanimità, cioè l'hanno fatti loro questi protocolli di sicurezza e ora che fanno? Se li rimangiano? Purtroppo c'è un dibattito politico in cui si crea tanto caosio. Quindi lei sta dicendo che loro parlano ma poi di fatto si adegueranno a quello che dice il governo? Esattamente così, ma è sempre stato così. Provate a vedere quello che è già successo. Vi ricordate Fontana? Fontana c'è stato un momento che diceva riapriamo tutto. Il governo gli dà la possibilità di riaprire mi ricordo le librerie, di riaprire i negozi di abbigliamento per bambini, articoli per bambini e le tiene chiuse. Quindi capiamo, io non lo capisco perché io sono un cittadino prestato alle istituzioni, prestato alla politica e sono onoratissimo di farlo. Mi taglio lo stipendio da quando sono in Parlamento e sono felicissimo di farlo e non sono cambiato sono la stessa persona di prima. Mi rammarico sempre quando vedo questa politica così propagandistica. L'ultimo esempio che vi ricordo voi penso che trasmettiate da Milano la fiera, l'ospedale nella ex fiera di Milano è stato un oltraggio all'intelligenza dei milanesi. Guardi Toninelli noi glielo chiediamo tutte le sere che ci colleghiamo con un assessore della regione e gli chiediamo tutte le sere che facciamo di questo ospedale e la risposta che ci danno tutte le sere è che alla fine lo tengono come emergenza se dovesse ripresentarsi la seconda ondata. Il problema è che non è un ospedale è un gigantesco reparto di terapia intensiva quindi o voi della maggioranza del governo ci date dei soldi alla regione per trasformarlo in ospedale o se no diventa una cattedrale nel deserto sono d'accordo. Hai capito? Ha già risposto lei lo dicono i medici chi va in terapia intensiva purtroppo ha delle patologie pregresse quasi tutti i decessi tantissimi avevano patologie pregresse quindi non puoi tenerlo in terapia intensiva poi è un altro problema di altra natura da patologia pregressa e non curarlo perché hai solo la terapia intensiva respiratoria è stata un'altra operazione di marketing perché purtroppo dico purtroppo io avrei voluto applaudire Fontana e Gallera ma purtroppo per questa gente qua che fa politica da troppo tempo i lombardi sono dei voti sono degli elettori per me i lombardi sono dei cittadini che devono essere prima di tutto tutelati nella salute mi scusi mi scusi Toninelli una cosa perché giustamente lei dice troppa propaganda intanto però giustamente lei tira l'acqua al proprio mulino di governo e di parte politica che fa parte del governo attuale in regione Lombardia abbiamo sempre detto ci sono stati degli errori eccetera però vorrei farle una domanda credo che di decisioni discutibili di gestioni discutibili anche ad esempio il commissario Arcuri per fare nomi e cognomi ne abbia fatte lei rifarebbe tutto se fosse al governo ridarebbe quel compito a lui appoggerebbe tutte le cose che ha deciso lui ma allora c'è una differenza la differenza sta nel sbagliare nel tentativo di ottenere un risultato rettificarsi cambiare e prendere una strada giusta mi pare che Arcuri nonostante le difficoltà lei immagina che si riferisca alle mascherine quelle a 61 centesimi anche anche all'appimmuni che dice che ha detto due o tre giorni fa arriva a fine mese nessun ritardo quando in realtà noi avremmo dovuto averla appena iniziata la fase 2 anzi prima che iniziasse la fase 2 l'appimmuni detto un altro l'avrei voluto anche io è vero l'appimmuni in ritardo non ce l'ha ancora però nessun paese europeo l'appimmuni se lei guarda l'elenco dei paesi non ce l'ha ancora nessuno si poteva non dire che sarebbe arrivata a maggio questo sono d'accordo si poteva evitare a dire quando non c'era certezza però io penso di non sbagliare nel dire lui non l'ha detto in maniera propagandista per dire abbiamo fatto un miracolo l'ospedale costituito in sei giorni come a one e quindi siamo magnifici perché questa è stata l'iniziativa politica esclusivamente di marketing politico qua c'è uno che dice che sperava che pensava che sarebbe arrivata l'appimmuni a maggio invece la sperimentazione dovrebbe partire per sei regioni il 5 di giugno però non è una scusante non è una scusante se voi guardate non c'è ancora ad esempio la Germania che dicono che sono sempre i più bravi di noi non ha ancora neanche loro un'attrope di frattabilità Toninelli un'altra cosa mi scusi l'interroppo perché poi abbiamo poco tempo c'è un'altra cosa che mi sta a cuore la Grecia non ci vuole la Grecia apre dal primo giugno 29 paesi e l'Italia non apre l'Austria al 15 giugno apre una serie di paesi e non apre anche a noi non è che il suo collega di partito Di Maio che fa il ministro degli esteri forse dovrebbe dire qualcosa a questi paesi sul fatto che poi insomma che questa chiusura considerando che in Italia noi abbiamo aperto agli altri è abbastanza ingiustificata sì hanno sbagliato non è possibile perché l'Italia è stato un paese che ha reagito prima che ha subito per primo come in Europa paese per la pandemia e secondo che è stato in grado di reagire in modo tale sia sulla sanità ma anche sull'economia per cui gli altri ci guardavano all'inizio pensavano che fossero un po' passe quando abbiamo deciso di chiudere come zona rossa l'intero territorio nazionale e poi si hanno replicato tutti guardate la Gran Bretagna che casino che hanno fatto con l'immunità di Greggia all'inizio hanno fatto hanno combinato tutti i colori che stavolta possiamo dire di essere stati i migliori o tra i migliori Di Maio ha già annunciato che farà un tour in tutti i paesi europei partendo proprio da quelli che stanno fermando o dicono che in questo periodo non ci aprono i confini sappiamo che ci sono dei paesi che l'Austria non è diciamo anche le sue dichiarazioni sulla politica finalmente solidale dell'Unione Europea sulla proposta della Commissione Europea non sono così benevoli nei nostri confronti e sbagliano molto spesso ti metti a tre secondi molto spesso c'è proprio una retorica sbagliata un giudizio sbagliato un pregiudizio sbagliato nei confronti degli italiani perché se guardiamo negli ultimi vent'anni noi siamo tre paesi che purtroppo hanno speso di meno nel sociale nel welfare nella scuola mentre gli altri paesi spendevano spendevano molto di più ma allora mi siamo d'accordo io e lei quindi la mia domanda è non è che Di Maio forse dovrebbe prendere una posizione ufficiale netta nei confronti di questi paesi no l'ha già presa guardi l'ha già presa se lei va sulla sua pagina nelle stante dichiarazioni che fa il ministro degli esteri Di Maio l'ha presa come ed è stato anche abbastanza duro perché non è tollerabile ma soprattutto non è tollerabile perché deve essere una politica comune europea anche negli spostamenti perché non mi pare che le merci non girino non mi pare che sia normale che uno ha un paese apre l'altro chiude si vuole una gestione comune noi la facciamo comune in Italia ma deve essere fatta comune anche in Europa altrimenti uno che chiude non si contagia l'altro che apre che cosa significa questo non ce la faremo mai uscirne così senta ci sono voci di rimpasto nel governo lei ha sentito qualcosa che brutta domanda magari è arrivato anche a lei lo spifero è arrivato a me qua a Milano magari è arrivato anche a lei no ma sai perché è brutta domanda perché questo è veramente un momento è un momento importante e qua bisogna portare a casa i risultati perché oggi abbiamo ottenuto secondo me un risultato importante la stabilizzazione sociale del paese non era scontato a noi ci hanno fracassato le scatole sul reddito di cittadinanza ma noi l'abbiamo sempre saputo indipendentemente dal covid-19 che era la più grande manovra di paracadute sociale di salvezza sociale per milioni di italiani perché quando siamo andati arrivati in Parlamento abbiamo iniziato a studiare nelle commissioni lavori nelle commissioni di attività produttive e quant'altro abbiamo visto che c'erano 4-5 milioni di poveri tra cui una buona parte in povertà assoluta abbiamo detto qua non si va da nessuna parte la crisi è una crisi soprattutto di consumi non sono imprenditori che non producono prodotti sono gli italiani che non hanno i soldi per compragli molto spesso di conseguenza abbiamo messo questa manovra ora abbiamo messo la manovra sulla reddito di emergenza all'interno del decreto rilancio ma lei non vede un rischio di rabbia sociale che venga fuori nonostante queste misure nonostante quello che il governo sta facendo perché la gente ha i soldi cioè io sto pensando ai commercianti che hanno i negozi chiusi che fanno fatica a riprendere quelli in cassa integrazione cioè non c'è un rischio di una rabbia sociale che in qualche modo esploda da una parte o dall'altra lei non lo vede questo nonostante le vostre misure allora la situazione non ha precedenti più grande crisi economica di sempre quella del 2008 non ha niente a che vedere questa è molto peggiore con che nel 2008 c'era l'austerità qua invece ci sono investimenti e il patto di stabilità l'abbiamo messo l'abbiamo messo a pare tant'è che abbiamo cancellato le clausole di salvaguardia nel decreto rilancio c'è un rischio ma i soldi stanno già arrivando perché io vi faccio un numero 8 milioni di partite IVA lavoratori autonomi dallo spettacolo e quant'altro i lavoratori occasionali hanno ricevuto i 600 euro a marzo i 600 euro d'aprile se hanno perso più del 33% di fatturato riceveranno 1000 euro a maggio sono tutti salvagenti importantissimi per ora abbiamo stabilizzata ora dobbiamo essere bravi però ad utilizzare i primi soldi che abbiamo messo di 80 miliardi tra Cura Italia e rilancio il rilancio ci devono ancora vedere il Cura Italia si sono già visti con la cassa integrazione l'abbiamo rinnovata l'abbiamo semplificata dobbiamo essere dobbiamo migliorare anche noi e dobbiamo molti non l'hanno avuta molti ancora non l'hanno avuta per problemi che non sono di soldi magari però molti non l'hanno avuta adesso non ho qua il documento perché io sono andato in tv e hanno detto una marea di stupidaggini di falsità se l'avessi qua chiunque è collegato ora va sullo smartphone qualsiasi motore di ricerca e digita cassa integrazione dati IMS magari digita la data di oggi o di ieri vi escono l'84% di tutte le richieste arrivate all'IMS si tratta mi sembra di 7 milioni di persone cittadini che avevano necessità sono state pagate e 2 milioni di assegni ordinari Tridico presidente dell'IMS ha detto che quei numeri vengono fatti dall'IMS solitamente in 5 anni cioè si sono velocizzati anche loro e quindi sono state pagate quasi tutte quell'altro 16% che non ha ricevuto è un problema che si deve sanare e con rilancio non passiamo più dalle regioni che erano quelli dove la burocrazia era un po' più lenta non erano aggiornati in Lombardia per 15 giorni nel mese di aprile hanno riordinato il sito informatico quindi scavalcando le regioni la domanda si fa direttamente all'IMS questo non l'abbiamo potuto fare prima perché la pandemia non era prevedibile però un altro errore che forse avete fatto è che i 600 euro ai notai forse non era il caso di darglieli forse non ne avevano bisogno è d'accordo? ecco non sono così tecnico per dare una risposta le posso rispondere umanamente da cittadino se è così sì ma non ero in quei tavoli non essendo al ministero dell'economia e delle finanze a scrivere nel dettaglio quella norma il parrucchiere che ne ha proprio bisogno il notaio magari no poi sa quando ci sono i soldi che arrivano tutti ci provano io sono tornato fortunatamente dopo tre mesi dal parrucchiere e la prima domanda che io ho fatto è avete ricevuto i 600 euro sì ed è veramente quella è una grandissima soddisfazione per una persona altruista come sottoscritto quella sui notaio se riusciamo a levarli perché visto dubito che ne abbiano così necessità ecco magari levate glieli adesso se mi sta guardando un notaio magari si arrabbia non mi interessa ho le spalle larghe però i notaio contro di me ci sono arrabbiate famiglie lobbistiche quindi non grande timore di un notaio senta 30 secondi l'ultima domanda visto che lei parlava del reddito di cittadinanza lei è d'accordo sugli assistenti civici? no non sono per niente d'accordo non siamo d'accordo ma non lo dico ovviamente con spirito polemico boccia anche lui tantissime cose da fare ha lavorato tantissimo in questi ultimi tre difficilissimi mesi e ha avuto questa idea però non possiamo pensare di mandare in giro cittadini che vanno da una coppia che magari pur addirittura sposate dire loro spostatevi non ci servono le ronde non ci servono degli sceriffi e quindi è un'iniziativa che lui ha preso tra l'altro senza condividere con il ministero il ministro dell'interno che ha funzioni ovviamente dedicate neanche con Vito Crimi che è la guida politica del movimento però mi sa che l'ha condivisa con Conte Toninelli perché gliel'ha blindata lui alla fine cioè c'era l'Italia Viva che non voleva voi che non volevate alla fine la fanno lo stesso perché Conte Lettoni se la dovessero fare si sono i tavoli politici adesso non c'entra più niente fanno il volontario che porta a casa la spesa ad esempio per la famiglia anziana per la persona anziana che uno sta bene o ha paura di andare al supermercato perché c'è il rischio magari di o ha paura di contagiarsi quella roba lì si poteva fare vi dico in tutta sincerità abbiamo 300.000 volontari della protezione civile e un sacco di volontari nel terzo settore si potevano prendere queste straordinarie organizzazioni di meravigliose persone che lavorano gratuitamente per gli altri senza creare dei cittadini prossima volta parlatevi eh però la reprimenda l'accetto se fossimo stati noi a fare la proposta no no ma certo noi l'abbiamo subita in questo caso c'ha ragione va bene Torinelli è stato molto simpatico ci viene a trovare presto spero va bene molto volentieri grazie infinite buona serata e buon lavoro buona serata buona serata anche a lei buona serata anche a lei grazie a lei